a che stavi pensando ho fatto questo per te mio amore il prodotto di un essere umano e della dea della morte l'unica cosa che può davvero ferirvi dammi questo affare aspetta mio caro se sacrificherai la mia creatura mezza divina la tua forza crescerà immensamente tu pensi a tutto mia amore sacrificarla adesso incrementerebbe la tua forza però non tanto quanto l'aumenterebbe se la sacrificarsi quando sarà cresciuta lo sai i sacrifici sono più efficaci quando sono maturi perché non aspetti tesoro la manderò nella terra dei viventi la cresceranno in teca potrai averla quando avrà 15 anni si diamo loro il tempo di innamorarsi di lei prima di strappargliela per il mio sacrificio marito mio sei un maestro nell'infliggere sofferenza rifletti quei teca dovranno fare tutto il lavoro per crescerla saranno come dei nostri servi e lei non saprà mai chi è la sua vera madre non sarai niente per lei niente assolutamente niente magnifico lo manderò via non sarai niente per lei non sarai niente per lei poi si trattava mai Grazie a tutti